La politica e le istituzioni hanno voluto essere presenti al funerale di Willi Monteiro. Il Presidente del Consiglio Conte insieme alla Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, appunto in veste istituzionale, si sono recati ai funerali del giovane sfortunato Willi che si sono tenuti appunto nel campo sportivo di Paliano. Una lunga colonna di auto blu scortate da tanta polizia si è presentata puntuale qualche minuto prima delle 10 al campo sportivo di Paliano, luogo dove si sono svolte le esequie e i rappresentanti istituzionali si sono recati all'interno a seguire la cerimonia. Dopo l'uscita del ferretro, insieme ad altre autorità, i sindaci dei comuni e altre figure istituzionali della zona, Conte Lamorgese e Zingaretti si sono avvicinati ai genitori di Willi. L'Italia è con voi, vi vuole bene, ha detto il Premier, abbracciando il padre e la madre di Willi Monteiro Duarte. Ora ci aspettiamo con danne severe e certe, ha aggiunto il Premier, abbiamo seguito tutti questa vicenda di afferrata violenza, non possiamo minimizzarla né sottovalutarla, non possiamo degradarla a singolo episodio, dobbiamo guardarci in faccia e capire che ci sono alcune frange, alcune sacche sociali che coltivano la mitologia della violenza. Anche Zingaretti è intervenuto, ha annunciato che la regione pagherà e sosterrà la famiglia per le spese legali e uno degli istituti alberghieri della nostra regione sarà dedicato al nome di Willi.